eccoci oggi con il santone hai qualcosa da dirci hai qualcosa da dirci ecco ecco lui che con una cosa che abbiamo inventato lui e lui veramente l'ha inventato suo padre un suo amico però noi abbiamo aggiunto un paio di robe e adesso lui scenderà lì ok guardiamo eccoci adesso tiro via sei morto è bene è bene dici un paio di parole santone per morire e di più frutta è che è piaciuto quasi morire ok adesso guarderemo di cosa si è fatto allora ci siamo presi un cuscino un pezzo di legno uno di metallo lì e due due cose due cose delle ruote due gomme e del legno e l'altra ruota ok ciao stai bene e uccidi i passanti con un macette la politica ci vuole divisi in tv sento parlare di isis su nel cielo guarda volano missili fuori fighe ok